Camillo D'Alessandro, sono arrivate anche le minacce sulla sua posta elettronica e sul profilo di Facebook? Purtroppo sì, questo accade quando si armano le persone di false notizie. È stato diffuso sulla rete un video costruito ad arte nel quale sembra addirittura che io tiro qualcosa a qualcuno quando invece semplicemente cercavo di evitare che un telefonino mi riprendesse senza colpire assolutamente nessuno e per fortuna che ci sono le immagini del Consiglio regionale che dimostrano esattamente questo. E poi mi si attribuisce una frase eliminata da un contesto dove io stavo ironizzando con un consigliere di 5 Stelle. La combinazione dell'attacca e cuci in colla ha dato l'impressione di chissà quale atto io avrei compiuto. Il risultato è un'aggressione mai subita sulla rete dai militanti dei 5 Stelle a cui è seguita e è stata condita anche di minacce. Consigliere D'Alessandro, nel frattempo è stato approvato anche il bilancio 2016 della regione Abruzzo. Quali sono le novità? Da un lato la massa debitoria mai accertata perché se l'avessero accertata l'avrebbero dovuto iscrivere in bilancio inizia ad essere inserita nel bilancio per cui puliamo i debiti del passato per fare in modo che le generazioni future non vengano ulteriormente appesantite di debiti. La seconda questione è che noi garantiamo partite finanziarie importanti sul sociale, sui trasporti ulteriormente da rimpinguare con i passaggi successivi durante il corso dell'anno e sulla tenuta economica e sociale della nostra regione. Sapendo che l'imperativo del 2016 è il lavoro a tutti i costi, dobbiamo fare in modo che la massa finanziaria disponibile che deriva dalle programmazioni nazionali e comunitari che la regione Abruzzo dispone, venga messa nel circuito economico, cosa che non è accaduta nel passato e che invece noi dobbiamo fare in modo che quelli soldi diventano cantiere, economia, finanziamenti alle imprese. Questo è l'impegno che si esprime col bilancio approvato.